a trovarci qui a Villa Lovigni, mi fanno dei segni che bisogna prestarvi un microfono no, questo è il microfono che è il bambino grazie Milo comunque di essere venuto a trovarci qui a Villa Lovigni, so che sei impegnatissimo e soprattutto so che sei pronto già a cantarci un primo titolo una canzone che abbiamo già ascoltato in altre occasioni e che oggi canterai per Buona Domenica il titolo? si però prima di cantare questa canzone vorrei salutare tutti con piacere gli italiani che ci ascoltano e sono tanti, sale veramente tutti gli italiani che ci ascoltano e perché no anche ai non italiani che magari e ai napoletani non vuoi dare un saluto particolare? si, vabbè quando parlo di italiani parlo di napoletani perché non sono razzista io ah si? ecco avete sentito l'applauso spontaneo dal fondo dimenticavo di dirvi che gli amici invitati in studio oggi fanno parte dell'associazione campani e quindi sono della stessa regione del nostro amico Nino D'Angelo e il comitato dei campani in Belgio quindi benvenuti anche a voi è una sorpresa per te che adesso si accomoda al pianoforte per cantarci una canzone dal titolo cantatore ti ascoltiamo volentieri e precediamo il tuo titolo con un applauso che facciamo ben volentieri grazie 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 un po' mi piace scala mi riceve stata accorta e lo stesso formale mi portava un minuto una storia napoleanci e portogalli giu guardavano tanti vecchi e glori musicisti molti rock amavano il mercato degli artisti canto, canto di riceva anche la gente canto, canto di riceva anche la gente canto, canto di riceva anche la gente sulle per lullare di nevi